I personaggi sono due, Ken Saro Viva è un poeta nigeriano e scrittore, combatteva argomentamente con compagnie per colibere che estragono il petrolio, inquinano la Nigeria, affamano la gente e il sorveo aveva creato anche un movimento politico, se non che si vede che i potentati sono riusciti a fare pressione sul governo, è stato condannato e poi impiccato. Per quattro volte tentarono di impiccarlo, la quarta volta riuscirono a farlo morire, questa cosa è stato un po' io la tiro. L'altro personaggio è Kering Carter, un fotografo che si era specializzato nel fotografare le tragedie dell'Africa, quindi i villaggi distrutti, i morti, eccetera. Un giorno si trovò a fotografare una bambina quasi morente con un abbottoio dietro le spalle, di questa cosa se voi andate a casa e andate su internet, vedrete una foto di straordinario a Pappos, per questa foto gli fu assegnato il premio Pulitzer di giornalismo e dopo alcuni mesi da avere accetto questo premio mi si uccise, si suicidò perché non comportava più di vivere in questo mondo. Allora io incontriamo Ken Saruiva davanti a un muro enorme, nero, con una porticina ed è lui che ci apre questa porticina che di fatto ci introduce nell'Africa, quindi noi vediamo l'Africa con Ken Saruiva che ci fa entrare e mentre lui fa un sorriloquio a un certo punto arriva a Kevin Carter, questo grande fotografo, con una specie di sciarfa attorno al colo sulla quale aveva attaccato vari fotografie come i vecchi lavori e panni che vendevano le cartoline ai turisti, come in altre cose. Io non credevo che avrei mai veduto quei miei occhi da vivo in paradiso, perciò fui incredulo ed attonico, fui muto a vedere di là, all'improvviso una luce, una musica celeste ed il senso che fosse un tutto condiviso, un odore berbafresca che ci investe, un incrocio di arcobaleni all'orizzonte, ragazze nere che fanno dirlande per le feste e uscite di cristallo giù da un monte, voli, galloni e festosi chiassi di bimbi neri a squazzare in una fonte, una cascata che salta giù da sassi di onici e di omale levigati e in fei cigli e tulipani sparsi, all'orizzonte i contorni frastagliati di un fiume azzurro e i gagnoli lontani e i fenipozzi di rossa e i cungulati e leoni, elefanti e caimani, tutti insieme in tranquilla beverata. D'un tratto Ken parlò, devo interrompere per dirvi che io all'inferno sono accompagnato da Dante Alvieri, si era scudito nella presentazione. D'un tratto Ken parlò, quanto rimani? domandò a Dante e lui, solo un'occhiata. Allora Ken, ebbene, avete visto? L'Africa, per come Dio l'ebbe creata, scusate se in vostra presenza mira a Cristo. Si chinò, prese la porta della terra, se la gettò sulla testa ed urlò, Cristo, dove sei? Perché non fermi questa guerra? Cosa ha fatto di male la mia gente? Se qualcuno lascia infame non sotterra, perché punisci tutto un continente? E dunque la negritù così cattiva? Ascolta nel mio canto l'innocente preghiera di tuo fratello nero, Sara Guiva. Un cuono squarcia l'aria e la sconvolge, il fiume si fa fango, la sorgiva si prosciuga e la lebbia vigge e già ci avvolge, il caimano alzanna la gazzella, l'aria già sta di precedenti volge e utilmente il cuore si ribella. Cosa ci è falso l'essere poetico? Inermi inunzi della verità, eroi inverni, in un mondo di quieti, falsi, svelare le cose a chi non sa, procugnare i diritti della gente, chiedere pane, gioia, libertà o almeno l'acqua per chi non ha niente. Cosa ci è falso l'essere di versi, colonde trafitte, prede di un serpente e in sangue le parole ormai dispersi, l'indifferenza può più che la prigione e ciò che resta sono spagli diversi. Ma se esiste una scienza e una ragione, una memoria storica, una coscienza, se un'etnia non basta, una nazione, la pace è frutto di sana convivenza. Chi è più forte dimostri il suo coraggio non nel dominio ma nell'accoglienza. So che sarà disatteso il mio messaggio ancora e sarà stato inutile morire. Quando il cerchio si piude, colpo il raggio, si stravolge il concetto del non dire, si scambia la paura per prudenza, l'ignavia diventa meglio non capire. E ciò che conta della sopravvivenza è la sopravvivenza. Ma se il dovere d'essere poeta è che liberi a non puoi far senza. E con impeto in cerchi d'acqua cheta scaldi le tue parole come sassi. Io lo scapolo, la mia fine fu la meta, il petrolio così impedì che io parlassi. E se la morte fu il temuto approdo, se la lotta fu scritto che io lasciassi, un boi almeno che sapesse fare un nodo, non si trovò che mi accorciasse l'agonia. Quattro volte tentò di andare a sodo l'inetto servo della compagnia. Ora vi chiedo, amici, siamo noi, i veri morti, i caduti sulla via? Misera Padre a cui servono eroi, misera mia terra e scellerato patto, a cento e a mille moriranno e poi ancora resterà senza riscatto. Ascoltando Ken, il suo riloglio triste, lui guardava noi, poi la valle più lontano e poi la terra, un sogno che persiste, sul ciglio di una sorte di alto piano, l'occhio si apriva all'immensa vallata, arida, del fiume ormai solo di Pantano. Ci voltammo dal fondo della strada, un giovane veniva sui trent'anni, un po' di barba, la teola scompigliata, sorrideva come estraneo agli affanni di quella terra, abituata alla routine, un po' sciatto e con sgualciti mani, centinaia di foto a cartoline, puntate a un nastro che pendeva al petto, ritraevano scheletiche bambine. Si avvicinò, scusate, disse, mi permetto, prendetele qualcuna, ricordo, scegliete pure da una fretta, aspetto. Poi ci sorrisi, benvenuti a porto, ed il ciglio ebbe un battito d'intesa. Sono pieno di rabbia, ma non mordo. Stacco una foto che portava a pesa, prendete questa, tutta una famiglia uccisa insieme, torturata e accesa. Ah ecco, in questa c'è pure l'altra figlia. Questo è un bambino, diciamo, denutrito. La pancia si gonfie, il bacino si assottiglia, aveva il femore più essere di un dito. Qui due bambini saltati su una mina. Questo spette il suo pasto proibito. Vedete come spette la manina. Che, gli disse Sara, hanno compreso. Ma lui, questa l'ho fatta una mattina, vidi la morte e lì mi sono arreso. Stacco la foto con un mano tremolante, come se il braccio non ricesse il peso. Dante la prese, io guardai, esitante. Raffigurava un corpicino nero e un avvoltoio lì, poco distante. La piccola si trascinava sul sentiero, un pugno d'ossa con la faccia a terra. L'avvoltoio più in là, col becco fiero, lo sguardo di chi ha già vinto la sua guerra. Già sa, lei striscerà l'ultimo metro e lui sarà la morte che l'afferra, nemmeno il tempo di guardarsi indietro. Io ero lì, esclavo lui, ero presente, ho visto la tragedia, il fronte e il retro, scattai la foto e per il resto di niente. Una totale resa quel destino, una chiara inconscienza da impotente. Tutto ciò che vedete rosso non è vino. E tutto ciò che è nero e anima e carne, io lo so bene, mi dormi vicino. Prendete questa. Saprete cosa farne. Che, ripetessano, hanno capito. Cos'altro si può fare più che parlarne? Ma il mondo ha visto e non ha reagito. L'Africa è un cosmo sempre più lontano. Tu hai fatto e hai detto e cosa ti è servito il più importante premio americano? Di coloro che hanno apprezzato la tua foto, in quanti sanno che sei molto in vano sperando di parlare un mondo vuoto? Lui raccossa le foto e poi le riappese. Poi ci parlò al passato le moto. Io fui, vivi e raccolsi, orgogli e offese. Di ciò che fece adesso non mi vanno, né mi vergogno del mio cuore che si è arrese. Che rincarca, piacere mio. Scusate tanto. Grazie.